Torna l'appuntamento più atteso dell'estate, Templaria Festival 22esima edizione a Castignano dal 16 al 19 agosto. Dai Templari al mondo, un percorso itinerante tra artisti di strada, giullari, teatro, musica, danza ed enogastronomia a tema. Con la straordinaria partecipazione lunedì 16 agosto di Roberto Giacobbo della Rai, conduttore di Voyager, in veste di consulente storico. A Castignano dal 16 al 19 agosto, Templaria Festival www.templaria.it